Mattia Mustacchio in questi microfoni, il gol sembrava aver raspianato la strada a questo Perugia, ha firmato Mattia Mustacchio, quarto gol con la maglia del Perugia, cosa è successo dopo? Cosa è successo? Giovedì perché giovedì è una partita importantissima e quindi già cominciamo a prepararci per giovedì Hai dovuto fare l'esterno di attacco, l'esterno di centrocampo e oggi anche l'esterno di difesa, insomma grande dispendio di energie Cerco sempre di mettermi a disposizione del mister e della squadra, negli anni veno male, ho imparato un pochettino a ricoprire tutti questi ruoli Ho cercato sempre di rubare un po' dei miei compagni, quindi se ci sarà bisogno di fare anche il portiere farò anche quello So dirà degli scherzi e insomma oggi serviva, quindi con la massima umiltà cerco e cercherò di applicarmi il meglio possibile se ricapiterà Hai parlato di quello che dovrà avvenire giovedì e poi nei playoff tu vivi lo spogliatoio, hai anche una grande esperienza di questo campionato lunghissimo e massacrante Cosa conta più in questo momento? La testa, avere la testa a sgombra o avere le gambe che vanno? Ma conta un po' tutto e credo che la cosa più importante sia la squadra, la squadra come gruppo e noi ne abbiamo uno fortissimo Quindi giovedì dobbiamo dimostrare a noi stessi, al pubblico, a tutti che non vogliamo solo giocare ma vogliamo vincere i playoff Quindi giovedì andiamo a prenderci i tre punti Grazie